Sono stati incastrati da un video i responsabili della brutale aggressione ai danni di un ragazzo avvenuta 15 giorni fa nella stazione della Circonvesuviana di Pompei. Si tratta di due maggiorenni e due minorenni. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Pompei hanno identificato ed arrestato i due maggiorenni che sarebbero gli autori materiali del pestaggio. Si tratta di un ragazzo di 31 anni finito ai domiciliari ed uno di 28 che dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria. I due minorenni, in quanto complici, sono stati deferiti in stato di libertà alla procura dei minori di Napoli. Le misure sono state risposte dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale procura. Gli indagati dovranno rispondere delle accuse di lesioni volontarie aggravate e di rapina pluriaggravata. Nel corso delle perquisizioni, uno dei ragazzi maggiorenni è stato trovato in possesso di un noccoliere. Il ragazzo era già stato coinvolto in passato in una vicenda di violenza domestica ed era stato posto agli arresti domiciliari presso la casa di un suo conoscente, poiché i genitori si erano rifiutati di riprenderlo in casa.